Buona ma bello, che mi fanno i giudici? Ma tu hai capito? Non mi ha voluto la Cassazione, non mi ha voluto la cortappella, non mi ha voluto niente, 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 niente. Carcere a vita, tu, carcere a vita, e tu? E io stesso, dalle qua, carcere a vita. Mamma mia, come è? E tu hai passato? Non ce la faccio giù. Oscar, che ora so? E cinque. Oscar, che ora sei fatto? E cinque in un minuto e mezzo. Oscar, che ora so? E cinque in due minuti. Oscar, che ora so? Aldo, ma volete fare questo tutto l'argastolo?